Questa notte a Serra un anziano signore classe 1934 affetto da morbo di Alzheimer ha colpito con un coltello di grosse dimensioni il proprio figlio. L'uomo ha chiesto aiuto ai vicini che hanno immediatamente allertato il 118. Il personale sanitario giunto sul posto ha richiesto l'intervento dei carabinieri. A peggiorare il quadro il malore avvertito dalla madre del malcapitato che seppur soccorsa dal personale medico presente sul posto è deceduta per arresto cardiocircolatorio. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale di Eboli dove è stato giudicato guaribile in otto giorni. Il padre è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti psichiatrici. La salma della donna è invece stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame cadaverico.